Nata nel 2011, vede la nascita del Consorzio di Tutela esattamente un anno dopo. È la DOC Sicilia. Ecco le prime 5 cose che devi assolutamente conoscere su questa denominazione regionale. Numero 1. La regione Sicilia è per lo più collinare, con scenari molto variegati fra loro che vanno da suoli vulcanici fino ai suoli calcari. Numero 2. Non c'è dubbio che il clima qui sia mediterraneo, con inverni miti ed estati molto caldi e soprattutto siccitose. Numero 3. Tra i vietini principali citiamo il nero d'avola per quanto riguarda le uve rosse e il lucido e grillo per le uve bianche. Numero 4. Quando parliamo di lucido intendiamo il cataratto. Numero 5. La DOC Sicilia è regionale, eccezione fatta per l'Etna. La montagna, che ha abbondantemente superato i 3.300 metri di altitudine, sta scrivendo una storia tutta sua. Qual è il tuo vino siciliano preferito?